con noi abbiamo il piacere di avere con noi il direttore d'orchestra daniele agiman che anche docente presso il conservatorio di milano quindi vicino di caso a bomba grazie daniele ciao come stai daniele no uno con due mani aspetta ho imparato anche con due daniele fantastico come questa è la prima lezione da lì si parte poi mi dicevano sì ma ti devi esercitare perché se non ti eserciti è un casino vieni al centro certo con piacere ma quindi mi tocca parlare quindi tocca allora l'orchestra non ce l'ha non lo so perché l'opzione sono di farli cantare magari anche più simpatica come io lo farei beh la prossima volta ci organizziamo meglio la prossima volta invece il tema è bello denso ce l'abbiamo quando lo racconto io sì ecco perché a che fare con la musica ma realtà anche qualcosa di diverso come raggiungere unità di intenti per raggiungere come avere unità di intenti per raggiungere un obiettivo comune che nel fare musica se l'hai sperimentato è il cuore è il cuore credo di qualunque organizzazione ma non è il mio campo io faccio il direttore d'orchestra l'insegnante quindi parlerò di musica io l'unica cosa che mi ricordo oltre 1 2 3 4 e che mi hanno ricordato che la prima cosa per avere l'intento esso a suonare insieme è quello di ascoltare e questo è ancora di suonare questo è assolutamente il cuore con la cui vorrei arrivare in questo quarto d'ora che abbiamo insieme tempi molto ristretti ma cerchiamo di andare proprio in profondità noi ci accomodiamo ti andiamo da molto piacere allora sì la tentazione sempre fare tentare di fare qualcosa di più pratico ma non abbiamo il modo e allora vi faccio subito una domanda qui vi chiederei di rispondere ad alta voce anche se siamo in tanti secondo voi musicisti qualunque tipo io dunque io faccio musica virgolette classica dirigo molte opere in giro per il mondo ma secondo voi musicisti che sia vasco rossi david gilmore miles davis chi volete voi qualunque tipo di musica vi appassioni o facciate qualcuno di voi magari fa musica secondo voi che cosa vendono i musicisti da una voce e emozioni ecco è incredibile che la prima risposta sempre e comunque è questa emozioni va benissimo in genere abbiamo più tempo io non vedo partire qua mi date più tempo o i 15 minuti sono già partiti io non lo so matteo va bene mi farete un gesto quando sono in dirittura d'arrivo direttore ruba ruba pure non ti preoccupare insomma un direttore che alluga perde tempo e una bella corona una bella corona perfetto eccolo qua e dicevo benissimo emozioni ed è verissimo ma in realtà se ci pensate qualunque musicista vende sostanzialmente performance anche se vende un disco è se voi comprate un disco se guardate un concerto riprodotto alla base ci sono delle persone io parlerò dalle quattro persone in su di quattro persone in su quindi gruppi di lavoro vendono sostanzialmente delle esperienze di performance cioè un'esecuzione dal vivo allora voi capite che nel salire su un palco io prima ho fatto proprio l'entrata l'avete visto qualunque musicista qualunque ambito musicale si muove in qualunque ambito musicale si muova ha di fianco a sé come compagna l'ansia l'ansia che succeda qualcosa di non prevista l'ansia dell'errore suo dei colleghi e questa ansia deve imparare a gestire anzi a cavalcarla in qualche maniera questo significa che per parlare di obiettivo comune e unità di intenti il sottotesto che in fondo matteo gli amici di comunicazione mi hanno dato è raccontaci in un quarto d'ora almeno un segreto per ottenere una performance eccellente come si fa un gruppo di musicisti ciascuno con ambiti e competenze diverse a raggrupparsi a unirsi attorno a un obiettivo comune a trovarsi e a realizzare una performance eccellente la prima cosa che vi chiedo di tenere presente tra poco sarò molto più divertente non ve la faccio cantare questa è assolutamente siete tranquilli però marco scusami se mi vedi dalla regia questo è tagliato ma è troppo piccolo ci vorrebbe tutte le quattro voci se no tra poco mi serve e mi serve tutto la se me lo riprendiamo grazie marco vi dicevo la prima cosa da tenere presente il contesto e cioè i musicisti sostanzialmente si preparano per tutta la vita e convivono con tutta la per tutta la vita con quella che i tedeschi chiamano la lampen fiber la febbre da riflettore contesto è questo l'obiettivo comune allora anche qui è bello parlare di musica mi permetterete anche se il mio campo sono un po di parto ovviamente perché mai come nella musica classica c'è una errore di fondo se io chiedessi a ciascuno di voi non ho il tempo di farlo siete in tanti che cosa grazie mille marco perfetto in tempo reale bravissimo se vi chiedessi che cos'è lo specifico del musicista classico l'esecutore classico pensate al musicista che suona un quartetto che suona in orchestra tutti mi rispondereste presumibilmente se non avete delle competenze specifiche che in fondo il lavoro del musicista della musica classica è un compito facile ha delle istruzioni che deve eseguire è un esecutore hai delle cose da fare falle bene e ottieni il risultato questo è l'immaginario in altre parole l'esecutore è semplicemente un input output se così fosse già però capite che una stessa esecuzione basterebbe una sola esecuzione di un brano quella resta è uguale per tutti così voi sapete vi sarà capitato di sentire un brano in più esecuzioni qualunque di musica classica qualunque cambiano i tempi cambiano i caratteri tutto il resto perché c'è qualche cosa evidentemente che riguarda la persona allora quella che vedete quale mie spalle è uso un termine del mondo delle organizzazioni è un piano aziendale uno schema aziendale un business plan chiamatelo come volete in altre parole è tutto l'insieme delle istruzioni che il mio capo in questo caso è mozart tra poco vedremo eseguire beethoven dai musicisti c'è una catena di comunicazione un compositore un'idea e dice questa idea è bellissima cielo nella testa ma vorrei che fosse eseguita da delle persone per altre persone per far sì che questo succeda devo dare delle istruzioni alle persone che suoneranno materialmente la mia idea e quindi la scrivo uso la scrittura e sappiamo sarebbe bello fermarsi su questo fatto della trasmissione attraverso la scrittura piuttosto che ma non è il caso e non è il tempo qui dentro ci sono tutte le istruzioni che quattro musicisti questo un quartetto d'archi di mozart hanno a disposizione per realizzare questa cosa davanti un pubblico allora vorrei che tre minuti non di più guardassimo insieme le istruzioni e sono convinto che suoneranno dei campanelli o delle riflessioni analoghe per ciascuno di voi perché a che fare col mondo delle organizzazioni non solo il mondo della musica quattro informazioni la prima è semplice la vedete qua di fianco assini a destra alla sinistra sulla vostra sinistra violino primo violino secondo viola violoncello questa scritta basso è stata aggiunta non è originale di mozart vuol dire che la prima istruzione che mozart ci dà è signori io vorrei un quartetto d'archi e vorrei quattro strumenti un violino un altro violino una viola e un violoncello non voglio un oboe un flauto un clarinetto un fagotto un corno voglio questi quattro strumenti si tratta cioè di un'informazione oggettiva non è che posso inventarmi qualcosa lì dentro c'è fai quello che ti chiedo perfetto la seconda informazione è altrettanto oggettiva se andate a vedere la nota allenata la in alto data al violino primo è un fa adesso non vi chiedo di rispolverare i trascorsi delle scuole medie disastrosi coi flautini e tutto il resto quella roba che ha ucciso il senso della musica in intere generazioni di italiani ma questa cancellatela per favore visto che insegno insomma quella prima nota è un fa questo significa che il violino primo quello che deve suonare quella parte la in alto deve suonare una nota precisa un fa se suona tutti voi lo sapete un mi che la nota subito sotto un fa diesis che la nota subito sopra ma proprio vicine vicine sono proprio lì attaccate non è che sta aggiungendo valore bellezza sta sbagliando quindi disfatto di fatto ancora volta mozzarci dà un'indicazione oggettiva caro amico prendi il tuo violino violino primo segui la tua parte suona la nota che ti ho scritto io sembrerebbe tutto molto facile insomma le indicazioni sono chiare oggettive non devo aggiungerci niente sono una sorta di macchina per tornare a quello che si stava dicendo nell'introduzione stamattina la vostra giornata la nostra giornata di lavoro ma qui poi cominciano i problemi e cioè primo mozzarci dice qualcosa che va un po più in profondità più in profondità ci dice come suonare queste note e ce lo fa mettendo due simboli una f e una p la vedete qua in alto per i più lontani questo anche un esame della vista f e p fp lo sapete tutti benissimo è forte e piano fantastico grazie borsa ci dice suona forte la prima battuta piano la seconda sì ma quanto forte quanto piano forte piano forte piano forte piano forte piano la relazione c'è uno è forte l'altro piano quale è giusto l'intervento dell'uomo delle persone quarta è fondamentale qualunque brano musicale come il teatro si muove nel tempo come il teatro la prosa si muove nel tempo c'è una velocità di scorrimento io qui normalmente faccio cantare una canzone a qualcuno non lo farò in questo caso ma sta di fatto che se io vi canto finché la barca va lasciala andare finché la barca va voi la riconoscete giusto qualcuno di voi no per ragioni di età perché non c'era ma chi la conosce uno dei mascapisaldi della musica occidentale finché la barca va di orietta berti meno male la riconoscete meno male ma se ve la canto così finché la barca va lasciala andare molto più veloce vi fa ridere e se ve la canto così finché la barca molto più lenta vi annoiate da morire ciò significa il tempo stringe che la velocità di scorrimento di un brano musicale è il cuore perché questa esecuzione abbia senso e su questo io mi aspetto che il compositore sia deciso nel darmi un'indicazione dimmi se deve andare a 100 all'ora 70 all'ora 25 all'ora e ci dà un'indicazione di velocità sì allegro che vuol dire tutto è il contrario di tutto questo brano può essere eseguito in cinque almeno maniere tutte assolutamente convincenti da un punto di vista stilistico del risultato sonoro con velocità diverse quello che voglio sottolineare allora è il contesto musicisti che si esibiscono dal vivo e lì conta la frase del più grande filosofo della musica che era freddy mercury che diceva the show grazie vi vedo preparatissimi che significa su questo sicuramente magari su orietta berti meno meno male ma anche questa cancellatela perché significa che qualunque cosa succeda sul palco tu la devi sapere governare il tuo erroro quello dei tuoi colleghi va governato perché lo show deve andare avanti e lo show ha questo tipo di istruzioni due oggettive ma due soggettive e si aggiunge un ulteriore problema e poi vediamo invece un video di persone che eseguono qualcosa così lo vediamo in concreto che questa cosa non riguarda solo me ma rimane riguarda me come membro di un gruppo perché il compositore non ha detto daniele che suoni violino primo suonalo bene e stop mi ha detto daniele che suoni violino primo suonalo ma assieme a tre colleghi assieme ai quali dovrei eseguire un quartetto che non è una sommatoria di parti ma è relazione tra le parti quindi abbiamo capito cos'è l'obiettivo comune eseguire questo brano in pubblico con questa serie di istruzioni adesso se marco gentilmente mi fa partire il secondo contributo li vediamo un quartetto d'archi suonare non c'è un direttore d'orchestra in realtà come vedete non parlerò di direttore d'orchestra ma perché è molto più bello vedere come la leadership qui è per usare un termine del mondo delle aziende è diffusa un mondo che non mi appartiene ma che capisco molto bene vediamo un quartetto dal vivo suonano beethoven osserviamoli e arriviamo proprio a quello che dicevamo prima come stare insieme per eseguire al meglio ottenere al meglio una performance il quartetto il quartetto al bamberg l'esecuzione del quartetto di beethoven è in assoluto considerato una pietra miliare dell'interpretazione di questo brano siamo dal vivo quel signore là davanti che accordo è il primo violino riguardiamo il primo violino riguardiamo un po' più basso Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sostanzialmente quello che abbiamo visto è il più alto esempio che io conosca nel campo delle manifestazioni dei rapporti tra persone, perché è astratto, di comunicazione non verbale. Questi signori hanno fatto tre cose. Si sono mossi, si sono guardati e si sono ascoltati. Per ottenere una grande performance con quella complessità di obiettivi e con quella complessità di istruzioni che mi dicono fai delle cose in maniera oggettiva ma in altre devi essere tu a metterci del tuo, tu con i tuoi colleghi e relazionarti costantemente con i tuoi colleghi in tempo reale davanti a un pubblico senza poterti fermare e ripetere. Per fare questo hai bisogno di tre cose. Un corpo che si muove, anzi un corpo che racconta. Voi pensate di entrare in un teatro e vedere un'orchestra di musicisti che si suonano così? Qual è il messaggio che vi mandano? Io personalmente tornerò alla biglietteria e mi farei ridare dei soldi del biglietto. Significa che il musicista con il corpo manda un messaggio al pubblico e lo manda ai suoi colleghi in base ai movimenti che fa col suo strumento, manda messaggi che i colleghi sono chiamati a raccogliere e a decodificare. Il secondo è lo sguardo. Si guardavano o non si guardavano? Entrambe sono vere. Si guardavano e non si guardavano. Chi fa sport di squadra sa a cosa mi riferisco. Durante i lunghi anni di training questi musicisti imparano a guardarsi con la visione periferica. Guardano la partitura e la parte, la propria parte, meglio scusate, guarda che cosa devo fare io, ma insieme mantengo un contatto visivo per vedere se i miei colleghi mi stanno dicendo qualcosa. Ma il cuore è che questi signori costantemente fanno quello che qualunque gruppo di persone che fa bene le cose fa. Cioè sta costantemente in ascolto di quello che è il contributo dei colleghi. Questo è il cuore. E quando dico questi musicisti non ci hanno soltanto detto che ascolto perché ci sento. Voi se in questo momento mi state ascoltando ma non siete interessati state pensando ad altro, state facendo altro. Benissimo. Ma se mi ascoltate con attenzione c'è una cosa diversa. Non è un ascolto fisiologico ma è un ascolto psicologico. Io lo chiamo, quando sono chiamato a parlare di questi argomenti con tempi anche un po' più dilatati, ascolto intenzionale. Che significa che quando questi quattro signori si siedono per suonare con i colleghi hanno prima di tutto padronanza assoluta, sono dei professionals, sono assolutamente padroni della propria parte. Sanno in ogni istante qual è la soluzione tecnica per risolvere il passaggio e con questa disposizione sono in grado di aprire le orecchie a quello che succede attorno. E che significa che tu mi stia simpatico, antipatico e secondario, caro collega o cara collega. Ma significa che nel momento in cui noi siamo seduti, se io mi fido di te professionalmente e per suonare un quartetto che non è suono bene io, suoni bene tu e suono bene gli altri due colleghi, ma è relazione tra il nostro suonare bene, devo in ogni istante stare con le orecchie aperte per sentire che cosa voi fate. E a quello che voi fate mettere il mio contributo e relazionarmi. Qui l'avete visto senza un direttore d'orchestra, un direttore d'orchestra aggiunge qualcosa, forse dato che mi fermo adesso alla sessione successiva, ci sarà qualche domanda spero, che riguarda più specificamente questo. Ma quello che mi interessava, e ho finito il mio tempo e sto sforando per un direttore d'orchestra terribile, insomma, di formazione professionale, è andare al cuore della eccellenza. Tensione verso i colleghi attraverso un ascolto che non è ti sento perché mi suoni vicino, ma ti ascolto perché mi interessa in ogni istante quello che tu stai facendo, e per fare questo deve avere la competenza necessaria che è sapere perfettamente la mia parte e fidarmi di te. Applausi! Grazie.